Io sto vivendo, come diceva all'inizio, la mia felicità perché professionalmente lavoro nella musica da quando ho 15 anni circa e questa forza è una forza davvero meravigliosa. L'italiano medio ha un'idea molto concreta di ciò che è la felicità ed è soprattutto la tranquillità. Avere salute, avere benessere e per cui con questi passi assolutamente riusciamo, riesco ad avvicinarmi al concetto di felicità legato al facility.